Siamo con il dottor Valte Varuzzi dell'associazione Camina, sempre all'interno della start-up del consiglio dei ragazzi ad Exo Scuola. Le chiediamo, alla luce delle sue esperienze dell'associazione Camina, quali sono i consigli che lei si sente di dare per un avvio di un'esperienza come quella della cittadinanza attiva nei ragazzi e nel coinvolgimento degli stessi in pratiche di democrazia? Il primo consiglio è questo, ovviamente un consiglio nasce perché ci sono degli adulti che decidono di farlo nascere e possono essere insegnanti, possono essere degli assessori, comunque gli adulti debbono prendersi il tempo di riflettere per capire come non solo attivare ma far funzionare, come aiutare questi ragazzi ad esercitare questa esperienza. Se non c'è una preparazione da parte del mondo adulto di questa natura è meglio non partire, perché in Italia sono centinaia i consigli dei ragazzi che sono nati e poi dopo qualche tempo sono morti, perché muoiono, ma perché dopo l'entusiasmo della partenza dove magari si fanno elezioni, si fanno campagne elettorali, poi la vita continua. E che cosa fanno i ragazzi? Bene, questo è il punto uno. Il punto due è che cosa fanno i ragazzi e come possono farlo? Allora, l'esperienza di un consiglio dei ragazzi è in primo luogo un'esperienza di partecipazione. Partecipando i ragazzi apprendono anche procedure, modi di lavorare, capiscono un po' meglio che cosa sia la democrazia e che cosa significa essere cittadini e il tema della cittadinanza attiva. Ma per farlo bisogna che ci siano certe condizioni. La prima è che i rappresentanti possano dialogare costantemente con i ragazzi che li hanno eletti, che li hanno espressi. Se le elezioni sono accadute in una scuola, bisogna che questi ragazzi abbiano tempo a scuola per dialogare con i ragazzi. Quindi il consiglio dei ragazzi è un'esperienza straordinaria di coinvolgimento di tutti i ragazzi di una scuola, non solo degli 8, 10, 20 che entrano a far parte di un consiglio dei ragazzi. Senza di che si dà un'idea della democrazia rappresentativa come se fosse in mano ai delegati e come se gli eletti fossero depositari di una delega totale e potessero fare quello che vogliono. Tanto gli altri non esistono più dopo l'elezione. Bene, questo è il primo, il secondo aspetto. Perché funzioni così, cosa deve accadere? Che la scuola comprenda che il consiglio dei ragazzi è un'occasione straordinaria, un'occasione di apprendimento straordinaria. Non è un di più una cosa che fa perdere tempo. In fondo l'esercizio della democrazia si fonda sulla capacità di usare in maniera saggia la parola, saggia e competente la parola, e l'esercizio della democrazia è fondamentalmente un esercizio di relazione con gli altri. E quindi nella vita di un consiglio dei ragazzi, i ragazzi sia gli eletti che gli elettori, mettono in pratica le competenze culturali, gli apprendimenti che la scuola ha loro, che ha condiviso, ha trasmesso, ha insegnato. Se questo accade, allora la scuola prende sul serio questa esperienza. Un aspetto ulteriore importante è che un consiglio dei ragazzi consente ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, di prendere in considerazione il territorio. La vita di un consiglio è importante se i ragazzi sono chiamati a riflettere sulla loro vita, sulle cose che pensano che funzionino, su quelle che vorrebbero fare. Ma questo significa dialogare col territorio e anche con l'amministrazione comunale. È possibile questo dialogo se l'amministrazione comunale si prepara in maniera intersettoriale. Un consiglio dei ragazzi non è tema che riguarda solo l'assessorato, per esempio, alle politiche giovanili o all'istruzione. No. Quando i ragazzi affrontano le tematiche del loro territorio, poi pongono quesiti, pongono questioni che sono intersettoriali, magari interessanti che riguardano l'assessorato all'ambiente, alla mobilità o ai lavori pubblici. Quindi se non c'è questo approccio intersettoriale, poi che accade? Ultimo punto, ultimo ma non ultimo, è che i ragazzi vanno aiutati ad affrontare le tematiche, ad analizzare il territorio nella prospettiva del bene comune. E questo è lo sperimento. Se ne rendono conto facendolo il lavoro. Che ci sono degli interessi e dei punti di vista molto diversi e che bisogna sapere contemperare. Nel senso che quello che io desidero fare in questo parco o in questa strada deve tener conto, magari, che ci sono dei commercianti, che gli anziani hanno altre esigenze. E quindi questo dialogo è molto interessante. Poi i ragazzi devono fare i conti con le risorse. Perché a volte le loro proposte richiedono un cambiamento che è soprattutto di atteggiamento e di assunzione di responsabilità, che non richiede disponibilità di quattrini oppure di poca cosa. Altre volte sono proposte anche interessanti che richiedono un investimento. Bisogna aiutare i ragazzi e mettere a punto delle proposte anche riflettendo sulla loro fattibilità. Perché nel momento in cui le faranno riceveranno dei sì, dei no e anche la richiesta di fare un percorso per vedere che cosa sia possibile fare. Perché la realtà non è o bianca o nera. Ci sono le sfumature. E la democrazia è proprio... si occupa delle sfumature. Bisogna che lo imparino sin da piccoli, mi pare di capire. La ringrazio per l'interessantissimo consiglio che ci ha dato. Buon lavoro. Grazie.